Si è spento poco dopo le 5 di questa mattina Fernando Di Laura Frattura, l'ex presidente della regione e papà dell'attuale governatore, nei giorni scorsi si era sottoposto ad un intervento chirurgico alla cattolica, stamattina sarebbe dovuto uscire e invece ha incontrato la morte. 83 anni, Fernando Di Laura Frattura è stato assessore alla sanità nel 1985 nella giunta a nuvoli presidente della regione tra il 1988 e il 1990 e deputato nell'undicesima legislatura tra il 1992 ed il 1994 risultando il primo dei eletti molise nel suo partito. Nato ad Alfedena in provincia dell'Aquila nel 1932 ha militato a lungo nella democrazia cristiana. Politico esperto e carismatico è stato anche vicepresidente del campo basso dei record accanto a Tonino Molinari. Negli ultimi anni è stato a capo dell'associazione degli ex consiglieri regionali prima di dimettersi dopo l'elezione a presidente della regione del primo genito. Era orgoglioso dei suoi figli Paolo e Giuliana la notte tra il 25 e il 26 febbraio del 2013 l'abbraccio pubblico con Paolo, nuovo presidente della giunta regionale, fresco di elezione dopo aver battuto Michele Iorio. Un abbraccio lungo e intenso come intensa è stata la sua vita vissuta sempre nella correttezza e nella volontà di aiutare gli altri. Messaggi di cordoio in queste ore sono arrivati da tutto il mondo politico. In tanti stamane si sono recati alla Camera Ardente allestita presso la Fondazione Giovanni Paolo II. I funerali di Fernando di Laura Frattura si svolgeranno domani pomeriggio alle 15 a Campobasso nella chiesa di Santa Antonio di Padova. grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.